Mister, bravi ad evitare la beffa perché anche il pareggio sta stretto. Prima del gol di Di Marco ha contato 12 occasioni da gol. No, ma grandissima partita, stra-dominata. Sarebbe una pazzia perderla, ma anche così grande maramarico perché penso che squadra stra-dominata, creata, ha giocato bene, ma proprio bene. Proprio molto molto bene. Non c'è stata la partita secondo me, un divario enorme. Da sottolineare anche che è stata una prestazione efficace e continua per tutti i 90 minuti, che non capitava da un po', no? No, molto bene. Veramente su tutto, su gioco, su priorità, aggressività, attacco. Penso che Calenic ci ha fatto giocare molto bene oggi e si ha visto che siamo più fluidi. Poi l'unico rammarico è veramente, creando così tanto, devi fare gol. Una partita da 4-0, 5-0 perché veramente dominio è stato enorme, ma almeno mi sembrava. Bene anche i cambi, perché chi è entrato è entrato con la mentalità giusta, con la voglia, con la fame, no? Guardate, questi ragazzi veramente ottimi, ottimi nella voglia. Molto penalizzanti da risultati ultimamente perché hanno fatto una bellissima prestazione. Oggi quelli che sono entrati hanno dato slanciuto all'erriore, cioè bene, abbiamo veramente poco, poco da dire, poco da riproverare. Unico magari questo è fare gol perché quando crei così tanti, tra attacchi, angoli, occasioni, qualche gol in più ci vuole. Mi dai anche una valutazione su Pandur, che è stato impegnato poco, ma quando è stato impegnato si è disimpegnato bene? No, lui ci dà questa sensazione durante l'allenamento che è molto forte sulla linea, come para, poi ha un grande vattaggio che gioca bene col piedi. Non sapevamo, no? Cioè le partite per portiere sono sempre un'altra cosa, però mi sembrava proprio con una serenità addosso, fantastico. Anche Massimo, cioè che merito di Massimo, di allenatore di portieri, che già prima mi ha detto, cioè questo proprio freddo, bene, farà grande partita e così è stato. Mister, non si può non fare una citazione di merito per Di Marco, al quinto gol in campionato più cinque assist utilizzato da quinto, utilizzato da terzo in difesa, sempre più efficace. Sta facendo una stagione fantastica, ma non solo dei numeri perché ce li ha, ha tiro, ha assist, vede il gioco. Penso che facendo terzo ha fatto salto di qualità, anche se tutti si lamentavano, ma di là che rende meglio, che vengono in gala tutte le qualità che ha di piede, sulla fascia, cioè comunque perde un po' il raggio di gioco. E sta facendo un grandissimo campionato, cioè un ragazzo splendido, solare, cioè speriamo che continua così. Giovedì sera si va a Crotone per la terza e ultima giornata di campionato, per ritrovare una vittoria che manca dal 3 aprile, ma che partita sarà per te particolare, visti i tuoi trascorsi a Crotone, gloriosi, hai una promozione in serie bimba che è che con il Crotone? No, cioè voglio vincere, perché io vedo la squadra non mola niente, ma tutte le partite che hanno fatto abbiamo sbagliato pochissime quest'anno, e questo è un periodo sfortunato, ma di grandissime prestazioni. A Crotone andiamo a vincere, poi per me sicuramente tra giocatore e allenatore che li ha portato in serie A per prima volta, ci sono state tante emozioni, tanti amici, tanti rapporti molto solidi e mi fa piacere rivedere tutta questa gente.